Durante il corso della prossima settimana ce la dovremmo vedere con 1-2 peggioramenti, ma ovviamente vi rimando alle previsioni del breve termine. Per quanto riguarda invece questo weekend alta pressione, quindi avremo un weekend di bel tempo, c'è l'imprevalenza serena in tutto l'Abruzzo, sia sabato che domenica. Ecco, domenica nel corso della giornata potremmo avere un graduale aumento delle nubi ma alte stratificate in arrivo dai settori occidentali. Ventilazioni assenti o debole, mare calmo o poco mosso, temperature da 2 volti in media ma comunque in ripresa nei valori massimi, occhio alle minime in ulteriore diminuzione. Ed ecco che avremo diffuse gelate, quindi temperatura di sotto dello zero, sia in alta montagna, sia in media montagna, in bassa montagna, ma anche sulle zone collinari. E attenzione perché alcune gelate potranno arrivare localmente, anche sulle zone di pianura.